I costi, che è l'altro argomento importante, grazie a un grande lavoro di ottimizzazione e di rispetto del denaro pubblico, reporta aumentando in maniera importante la produzione passata da un costo di 1.900 euro al minuto prodotto di messa in onda del 2016 a 1.200 euro di oggi. Questo grazie alla valorizzazione di giovani giornalisti e alla valorizzazione di competenze interne. Si tratta di costi editoriali, quindi che dipendono esclusivamente dalla messa in onda di report. E ci sono i contratti degli autori, degli inviati, i contratti di lavoro autonomo, scrittura, regia, videomagra, doppiatori, il materiale di ripresa, tipo schede, acquisiti, fatti da noi, materiale tecnico, tutti gli acquisti dei repertori, foto, video, eccetera, costi di trasferta degli interni e dei collaboratori esterni, i compensi aggiuntivi, tra cui il mio, tutti gli abbonamenti, riconamenti, le visure, infocamera, saggisti, tutta la scenografia, inclusi i noleggi dei videoproiettori e del tecno crane, eccetera, i miei vestiti, che quelli vabbè, una camicia e un paio, un pantalone, la cancelleria, gli oneri di sicurezza, in studio i costi dei contratti degli autori, quelli delle inchieste, le assicurazioni per i viaggi all'estero, taxi, telefonia e telefoni satellitari. Ecco, questo, nonostante siano aumentate il numero delle puntate da 16 a 28, siano aumentati i minuti di messa in onda, puntata da 85 minuti a 130, senza che la qualità ne abbia risentito.